Si chiama La vite è meravigliosa, il progetto che coinvolgerà sette comuni del Chianti per promuovere una consultazione tra aziende e operatori del mondo agricolo, enti e cittadini per scrivere insieme le linee generali per lo sviluppo del biodistretto e del distretto rurale. Il Chianti è ovviamente un'area importante della nostra regione sia per motivi storici che economici, paesaggistici e quindi che abbiano deciso di presentare un progetto di partecipazione e che l'autorità della partecipazione, che decide per noi soggetti meritevoli, abbia deciso poi anche di finanziarlo con una cifra di 28 mila euro, è un fattore positivo perché? Perché nonostante la loro storia, nonostante la loro consistenza economica e di bellezza si pongono anche la domanda di quello che sono le cose del futuro e non lo fanno solo dal punto di vista nel chiuso delle istituzioni ma provano su questo a chiederlo a tutto il territorio. Sarà a tutti gli effetti un nuovo percorso di partecipazione finanziato dall'autorità regionale per la garanzia che avrà come obiettivo principale la realizzazione di un manuale di regole condivise, un complesso di linee guida elaborato da cittadini, produttori ed esperti con cui valorizzare il paesaggio e il mondo agricolo e turistico, ma anche conciliare interessi e necessità che non sempre coincidono, oltre che raccogliere richieste e suggerimenti dal basso per uniformare strumenti comunali e urbanistici e garantire così una migliore agilità burocratica. Un progetto volto a tirare fuori l'eccellenza del territorio ma facendolo in maniera partecipata a ristilare le regole del nostro sviluppo, a riparlare con portatori di interessi e comunità perché il progetto di definizione di qualità di un paesaggio e quindi poi di indirizzi a quelli che sono i nostri strumenti urbanistici, a questo nostro nuovo modo di produrre in Toscana, a quelle che sono le politiche proprio di sviluppo territoriale, dal turismo all'agricoltura alle manifatture, siano oggetto di un grande processo di partecipazione che per la prima volta ci vede tutti quanti insieme per lavorare insieme alla cittadinanza. La vita è meravigliosa, coinvolge le amministrazioni di Greve in Chianti, San Casciano-Valdipesa, Barberino-Valdelsa, Tavarnella in Valdipesa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Radda in Chianti che nel 2016 hanno festeggiato insieme al consorzio i 300 anni della zona di produzione del Chianti Classico. Il Chianti si riconferma una realtà omogenea e unitaria che fa dell'incontro tra necessità e prospettive future la chiave per superare le fragilità e alzare il livello della qualità della vita, partendo dai bisogni reali del suo territorio. Così la terra del buon vivere si rafforza e rinasce come modello di società integrata, condivisa e collettiva.